L'olio di Spizzera, ragazzi, Napoli, Salvatore, il migliore pizzaiolo storico di Napoli, guardate qua. Siamo arrivati a vedere uno dei migliori pizzaioli in Napoli, Salvatore Magno, che abbiamo lavorato con l'Amedino. Siamo arrivati a fare una delle migliori pizzaioli in Napoli, Salvatore Magno. Stiamo ritornando nel passato, facevo le pizze con Salvatore quando avevo... Abbiamo 19 anni, stiamo a Bari, ora siamo a Napoli. Via qui, parmigiano, basilico, bufala. Salvatore, ti ricordi quando... Allora, noi ci mangiamo la pizza. Ma ti ricordi quando avevo... Come? Io mi ricordo, tanti anni fa, con Salvatore, facevo i video di nascosti su YouTube. Se andate a vedere i miei primi video, sono che con lui, facevo l'iPad nascosto. So, ragazzi, ora siamo arrivati a Napoli. Back in Salvatore. Andate a questa pizza, ragazzi. Andate a scuola entrato. Ma sapete che è arrivato, eh? Dile la verità. Guardate qua, ragazzi. Guardate qua. Guardate, sei, sono state davvero. Guardate qua. Guardate qua qui. Guardate qua. Guardate qua. Guardate qua. Guardate qua! ragazzi Napoli, il migliore pizzaiolo storico di Napoli, guardate qua ciao il sapore è ridotto da ultimo anni fa questo pochino è un pochino